E non puoi fare, santo cielo, una riga nel mezzo, tra, di qua, si è bene, benino, malino, benissimo, di là, morite di fame, sto cazzi vostri. Perché chi muore, chi muore di fame, chi muore di malattie, chi muore di guerra, comunque viene, se gli spara addosso, si scansa, e arriva, ci prova comunque, che deve fare? Che deve fare? E questo è il futuro, siamo tutti più mescolati, c'è poco da fare, non puoi alzare il ponte d'elevatoio e lasciare fuori il resto del mondo, i popoli sono destinati a mescolarsi, ed è una cosa bella, ripeto, il mondo è destinato a mescolarsi, i continenti sono destinati a mescolarsi, lo sapete, ce l'hanno insegnato a scuola alla deriva dei continenti, ora ci vuole suo tempo, ma che sarà mai? Eh, che sarà mai? I continenti, perfino quelli. E allora, noi siamo qui, ci sa capiglia fra nord, sud, est, ovest, immigrati sì, immigrati no, badanti sì, badanti no, la lega nord contro tutto il resto del mondo, le ronde padane contro la storia, incredibile ulti il terrore delle badanti, non a caso c'è la fede verde. Grazie. 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 Grazie.